Allora, le devo spiegare prima cos'è la Sistema Quota. La Sistema Quota era messa nel 1971 dopo la nostra indipendenza contro il Pakistan, dove il governo Awami League hanno dato questa Sistema Quota che riserva dei lavori del civile governo. Però il 30% era passato per i veterani e quindi questo era nel 1971. Ora era diventato che nel 2018 c'era la prima protesta contro il governo regime di Shekhasina, Awami League, perché il 30% erano per i martiri, però era diventato che i nipoti e i nipotini stavano usando questa quota e che sono 180 milioni di persone che vive in Bangladesh e 0,13% stavano prendendo il 30% di lavoro e quindi non andava tutto sul merito e questo andava a fare effetto sull'economia e sui lavori per i studenti sotto 30 anni. E quindi nel 2018 avevano fatto questa protesta, poi la petizione è andata su Alta Corte ed loro hanno abolito questa legge. Poi cosa era successo? Che nel 2024, nel giugno, hanno fatto ripartire questa, perché hanno fatto anche i nipotini di martiri, i veterani, hanno fatto di nuovo la richiesta, Alta Corte, e Alta Corte hanno di nuovo messo questa legge. Ecco, ed è partito da giugno questa protesta in pace dalla parte di studenti. Però nel mese di luglio, Shekhasina, che è il primo ministro del Bangladesh, è scambata in India, giusto? Sì, quello è proprio alla fine, però le devo dire in due parole come era successo, se no, che nel luglio lei aveva detto una parola che aveva fatto proprio incavolare tutti i cittadini del Bangladesh, importantemente i studenti, perché aveva pronunciato questo nome Razakar, che vuol dire i traditori che avevano, essendo bengalese, hanno tradito il Bangladesh contro la indipendenza nel 71. e aveva detto che chi deve meritare questi lavori, i figli di martiri o i figli di Razakar. E da lì sono partiti tutti questi proteste ancora di più. E il governo di Shekhasina, per stoppare queste proteste contro i studenti, ha usato tanta la violenza con la polizia e l'ala di studenti che fa parte del governo. E da lì sono iniziati a morire tanti studenti, più di due o trecento ufficiale. Dopo andiamo in Newsroom 28 tra pochissimo da Aurora Bottino, anche per le sue domande. Quello che ti volevo chiedere, come si può spiegare anche la povertà, perché è uno dei paesi forse più poveri del mondo, il Bangladesh. No. E' una fake news, come si dice oggi, questa rispetto alla povertà che esiste in Bangladesh? No, allora, in teoria Bangladesh è uno di più, in Asia, è uno di più paesi economicamente che si sta avanzando rispetto di quello che era 30 anni fa. Però, grazie al governo che ogni volta succede del regime del genere, l'economia va di nuovo indietro e le genti iniziano a soffrire. Per un paese è sotto il sviluppamento. Quindi si sta sviluppando. Giusto. Tantissimi abitanti, c'è uno sviluppo e poi tu dici il governo, il regime... Perché è la corruzione. La corruzione. Aurora Bottino, ciao Aurora, eccoci. C'è un tema molto importante, che lo accennava prima Tomala, che è quello degli studenti, dei giovani. Sì, esatto, Tomala. La domanda è quindi quanto sono stati fondamentali i giovani, gli studenti che si sono messi insieme e hanno iniziato questa rivolta, una rivolta che poi va a beneficio di tutti e che chiaramente però toccava principalmente loro questo problema del sistema quota. Giusto. Questa, da dopo che i protesti erano iniziati, le genti tutti sono scese in strada e avevano solo uno a richiesta al governo. loro volevano che... non è che è da togliere tutta questa sistemazione, loro sopportano però a una giusta cifra, tipo le richieste erano di 10% e il resto del 90% andava su meriti, così i studenti potevano trovare il lavoro quando finivano università e potevano avere un lavoro, perché ancora i prezzi, cioè scusami, il salario è molto basso in Bangladesh, quindi tutti cercano di trovare un lavoro civile, di quello che aspettano, ma purtroppo Sheikasinelli hanno delusi tutti con questa legge e continuava con la violenza e gli studenti pensavano di più, aspettavano di più da questo governo che li supportava. Cosa accadrà adesso? Perché c'è il premio Nobel, no? Che potrebbe prendere in mano la situazione. Allora, il signor Yunus, che aveva vinto il premio Nobel nel 2006, è stato il fondatore di Grameen Bank, che aveva realizzato questo microfinanziamento e aveva aiutato l'economia di Bangladesh di alzare. Ora i studenti hanno la fiducia su questa persona che potrà prendere il controllo di interim governo ed aiutare finché non riaccada l'elezione e diventa come democratico un paese. Ed ora, infatti, dopo tutte queste cose che è successo in ultimi giorni, i studenti ora sono in strada perché è caduto il governo, non ci sono i servizi di polizie o carabinieri in nostro paese, neanche di locale. I studenti stanno aiutando di mettere sotto controllo, infatti tutti i studenti sono scesi in strada, stanno aiutando a mettere in controllo perché traffico in nostro paese è proprio fuori di strada. Però, giustamente, ora tutti stanno rispettando, come possiamo vedere in tanti video, nei social network che sta girando, i studenti stanno cercando di tenere tutto sotto controllo. Ed, in più, come in tanti video avevamo visto dai news report internazionali, che quando Shekhasina era volato via in India, c'erano più centinaia e migliaia di persone che erano a marcia verso casa di presidente, in più il Parlamento che hanno preso sotto controllo. C'erano stati gli aggressori che hanno rubato, però, grazie ai studenti, loro li hanno riportato dietro le cose che sono stati rubati. Aurora? Appunto, per questa situazione che si era andata a creare in Bangladesh, voi avete protestato anche a Genova, siete scesi in piazza a caricamento, è vero? Sì, questo eravamo nel 21 luglio, al supporto di studenti che erano morti. E noi volevamo pure che Shekhasina e il regime di Aomi League scendessero dal trono e fa una elezione giusta per aiutare la gente del Bangladesh. E dovunque in Italia, dove ci sono la comunità bengalese, in Venezia, Roma, Bologna, Milano, dappertutto sono state queste manifestazioni al supporto dei studenti. Grazie, grazie a Tomal Buia, grazie per il tuo racconto, per il tuo contributo e in bocca al lupo al tuo paese. Grazie a voi.